bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi tante novità per quello che riguarda le ultime 24 ore di fortnite racchiuse in questi pochi minuti devo dire che arrivati già dopo una settimana quasi di gioco a me questa season non sta assolutamente stancando mi piace mi fa continuare a divertire e mi ha rialzato parecchio la voglia di giocare a fortnite quindi non ho l'esigenza non so voi di avere subito un aggiornamento molto probabilmente infatti la prossima patch arriverà settimana prossima quindi avremo tutta questa settimana per andare avanti nel video di oggi parleremo anche e vedremo alcuni dettagli in arrivo in game skin riparliamo un attimo dello starter pack e un file audio molto interessante prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali di lasciare un like a questo video e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta di un accorgimento per quanto riguarda la skin di halo come sappiamo vi avete mi avete chiesto se ci sono altre collaborazioni e ve le ho fatte vedere nel video di ieri ma arriva una notizia una curiosità questa intanto è la skin di halo che ci sarà in game e con quello che vi sto facendo vedere in questo momento quindi queste scritte stanno ad indicare che il backpack della skin potrà essere modificato con un sacco di stili diversi che in launch martial muskhead merman military minotaurs non abbiamo purtroppo le immagini ma è una bella cosa perché comunque una roba in più una curiosità in più un tocco di classe per la skin di halo vi ricordo che arriverà ovviamente tutto il set quindi piccone e deltaplano tra l'altro questa invece è un'immagine di come si presenterà effettivamente in game la skin in questione andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché notizia per tutti quelli che stanno cercando di completare la scheda dei pesci della pesca io vi consiglio ragazzi di mettervi lì quando non avete niente da fare e pescare tutti i pesci per completare l'elenco come vi ricordo nella scorsa season c'era una quest che ci ha dato 20.000 punti esperienza per aver pescato tutti i pesci non è ancora disponibile in questa stagione però portarsi avanti non fa mai male e questa infatti è la mappa dove ci sono tutti i pesci particolari e dove pescarli mentre invece come vedete in basso a sinistra tutti gli altri tipi di pesci li potresti trovare ovunque quindi quando non avete nulla da fare dentro e giù di canna da pesca di prepotenza e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono state delle cose molto interessanti che sono successe nelle ultime ore di ieri pomeriggio sono stati riaggiunti nei file di gioco alcune righe di codice anzi più di alcune direi direttamente delle cartelle relative ai rift continui che erano presenti nel capitolo 1 questa è un'immagine tratta non so di quanti di voi l'hanno visto se lo ricordano nel capitolo 1 al bosco blaterante misero dopo un po di tempo un bunker segreto sotto una capanna e sotto il bunker segreto che andava giù di un paio di piani trovavate un rift infinito quindi un pochettino come quello che poi è successo nella season 10 o come succede adesso nello zero point questo invece era proprio un rift che potevi prendere infinite volte e sono state appunte riaggiunte riaggiunti tutti i file dedicati a questo rift quindi come state vedendo lo chiamano portal nei file portal teleport teleport idle teleport shards rift m insomma ragazzi questo vorrebbe poter dire che vedremo nel futuro un ritorno di questo rift infinito in realtà io la interpreto in questo modo secondo me continuano leggermente e piano piano ad aggiungere tutti gli elementi del capitolo 1 o meglio i più importanti e devo dire che il rift infinito ha segnato comunque una storia una parte di storia del capitolo 1 quindi stiamo attenti vi terrò aggiornati ovviamente su ogni cosa che hanno intenzione di rimettere e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché un'altra bella notizia per tutti i collezionisti di skin o semplicemente per tutti gli amanti del natale e delle festività avremo la possibilità in questi giorni non sappiamo quando comunque entro le festività natalizie che stanno ovviamente anche prendendo fortnite ieri sono uscite le skin di natale avremo la possibilità di shoppare finalmente questo piccone devo dirvi ragazzi che questo piccone è veramente uno dei più vecchi che sono stati scoperti e che non sono mai stati rilasciati parliamo ragazzi di almeno un anno e mezzo quasi due anni fa indicativamente un anno e mezzo abbondante molto bello non abbiamo purtroppo delle immagini in games non l'immagine principale e quindi incorciamo le dita e speriamo di poterlo vedere nello shop e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché buone notizie anche per quanto riguarda appunto gli update che stanno per arrivare di questa season 5 del capitolo 2 voglio ricordarvi che la patch 15.10 è già stata terminata con la bellezza di 499 build quindi dovrà essere una patch secondo me molto interessante perché averla fatta 499 volte ci siamo quasi avvicinati alla patch 15.00 che è quella ovviamente che ci ha permesso di giocare al capitolo 2 alla season 5 di questo capitolo aveva fatto 640 build quindi sono molto curioso e sono già iniziati i lavori per la patch 15.20 sono già arrivati alla release numero 5 ovviamente si parla di almeno gennaio probabilmente per la patch 15.20 mentre invece credo che prima di fine anno vedremo la 15.10 andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è un sguardo veloce se volete salvatevi questa immagine l'ho fatta per farvi un pochettino più più chiara e più divertente salvatevi queste immagini perché sono tutte le legacy presenti in questa stagione vi ricordo se volete mettere un punto di riferimento una legacy un ricordo nel vostro nella vostra timeline dalla season dall'inizio della season 1 del capitolo 2 fino ad adesso questo è il modo giusto per farlo perché potete tranquillamente farvi tutte le legacy e chiudiamo con l'ultimo argomento di oggi perché vi voglio ricordare che sta per arrivare e secondo me arriverà a brevissimo perché non fanno mai passare più di due settimane lo starter pack la diamond diva starter pack 600 v bucks la skin il piccone e ovviamente il suo backpack tutto molto sberlucicante tutto molto smeraldoso come sempre il prezzo dovrebbe essere 3.99 in teoria questo è quello che ho sentito non ricordo il prezzo dell'ultimo starter pack ma devo dire che è davvero molto carino insomma ragazzi tante le news anche oggi per quello che riguarda fortnite io vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando il like premete il like ragazzi e lasciate un commento in modo da portare questo video nei consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao